Buongiorno, mi presento, sono Sergio Ceresa, sono Sales and Marketing Director della Information Technology Division di Samsung. Vi do il benvenuto allo stand di Samsung, presenza sempre più obbligatoria, sempre più visiva, massiccia, in quanto le novità di Samsung sono assolutamente numerose. Questo è un esempio dove è possibile migliorare ulteriormente la tecnologia, quindi riducendo il bezel fino a 3.5 mm, rendendo i video wall alcuna meno invasivi dal punto di vista delle cornici e incrementando tutte le risoluzioni. Nuovi pannelli a partire dai 10 pollici, 21, arrivare fino ai formati maggiori, risoluzioni 4K, schermi curvi, multi-split, nuovo sistema on-chip ancora più evoluto, processori fino a quad-core, integrabilità in rete, connessione, wifi e integrazione in tutte le reti possibili. Con Samsung ogni soluzione è assolutamente possibile. ISE devo dire che quest'anno è ancora più affollata degli anni precedenti, si nota una maggiore presenza anche di visitatori italiani. L'Italia credo che rappresenti ancora la più grande opportunità all'interno del mercato europeo per la penetrazione del digital signage, in quanto non è ancora proprio ben radicata questa cultura del passaggio dall'analogico al digitale. E comunque ben venga in quanto è una grandissima opportunità di business. Grazie per la visione!